Ciao, eccoci giunti all'ottava riflessione ad alta voce. L'argomento di oggi è un argomento che spesso tratto e spesso le persone mi chiedono di parlare di questo argomento. È un argomento molto importante e molto profondo. L'argomento di oggi è perché fai fatica o perché non riesci a cambiare e quindi a migliorare la qualità della tua vita sia personale che professionale che finanziaria. Sono persone che impiegano tanto tempo, tante energie, frequentano tanti corsi, fanno tanti incontri di sessioni individuali con dei professionisti oppure leggono libri o dedicano molto tempo della propria giornata a cercare la strada per l'evoluzione. Però o non riescono o fanno molta fatica. Prima di vedere questi cinque aspetti che limitano o impediscono la libera evoluzione è importante ricordare i punti cardini del cambiamento. Il primo punto cardine è che il vero cambiamento, il duratore del tempo, quello che veramente ci porta a migliorare la qualità della vita, avviene prima dentro e poi avviene fuori. Quindi è importante raggiungere la felicità, la pace e la libertà interiore che poi ci permetterà di raggiungere e manifestare la pace, la felicità e la libertà esteriore. Il secondo punto cruciale è che il cambiamento non avviene solo a un livello, avviene a più livelli. Avviene a livello del pensiero, a livello delle emozioni, a livello delle azioni, a livello dell'identità. Quindi quando questi quattro elementi sono allineati tra di loro, il cambiamento avviene a volte, non posso dire più velocemente, ma avviene in maniera più profonda e quindi viene mantenuto nel tempo. Adesso vediamo quali sono questi elementi che impediscono o limitano il libero evolvere. Il primo è la mancanza di consapevolezza. Quindi non sapere che strada percorrere, non avere un metodo o magari percorrere la strada non idonea a noi. Io nel passato ho fatto tanti corsi, ho fatto tante formazioni, qualcuna mi ha portato dei buoni risultati nella mia vita, alcune no. Poi ho capito che non dipendeva dalla qualità della formazione o dalla qualità del formatore, dipendeva da come io mettevo in pratica ciò che avevo imparato durante la formazione. oppure a volte mi redevo conto che non era la strada adatta a me. Tenete presente che i formatori tendono a portare le persone verso l'unico stesso obiettivo che è quello di permettere alle persone di essere libere. Però magari percorrono strade diverse, non è detto che sia la strada giusta per noi. Ognuno di noi ha un proprio percorso, una propria attitudine di apprendimento e di conseguenza di sperimentazione e di conseguenza di manifestazione nella nostra vita di ciò che desideriamo. Il secondo aspetto è la de-responsabilizzazione, quindi dare la responsabilità del nostro cambiamento a persone esterne a noi o a situazioni esterne a noi. O magari dare, in questo caso qui, quando si parla di formazione, dare la responsabilità al formatore o alla formazione. Sono tante persone che mi chiedono che cosa posso fare io per loro. E io rispondo sempre, io per te non posso fare niente, se vuoi al massimo possiamo fare qualcosa insieme, andiamo a creare una corresponsabilità. Io ti metto a disposizione quello che so, ti metto a disposizione gli strumenti che ho creato per il cambiamento, ma poi tu devi percorrere la strada del cambiamento. Jim Rohn, un grande coach americano, diceva sempre che nessuno può fare le flessioni per te. Quindi non sarà quello che ti insegnerò io, ti insegneranno le altre persone, non saranno le consapevolezze alle quali ti aiuterò ad accedere io o alle quali ti aiuteranno ad accedere gli altri formatori, ma sarà il modo in cui tu le utilizzerai e le porterai in maniera attiva nella tua vita. Il terzo punto è la mancanza di entusiasmo, la mancanza di motivazione, la mancanza di credo e di fiducia. Lo stato emotivo è l'energia che ci permette di muoverci, l'entusiasmo se io non ho veramente voglia di cambiare, la motivazione è nulla, se io non penso di meritare il cambiamento ovviamente la motivazione sarà nulla, oppure tutto quello che farò non metterò la giusta energia e la giusta motivazione e di conseguenza non riuscirò ad ottenere ciò che desidero. Il quarto punto è la mancanza di azioni costanti. È importante, come dicevo prima e ribadisco anche adesso, mettere in pratica ciò che hai imparato. Il nostro cervello, che è un organo meraviglioso, più di una volta abbiamo parlato del potere del nostro cervello, se ritiene una cosa non utile tendenzialmente non l'assimila, oppure se la ritiene utile, anche tu la stai ritenendo utile, se tu non la metti in pratica il tuo cervello a un certo punto te l'accelerà o comunque la metterà da parte e quindi non sarà direttamente fruibile da te e quindi non avverrà il grande cambiamento. Quindi saprai tante cose ma se non le metti in pratica rimarranno tante belle conoscenze e nessuna competenza. Per quanto riguarda l'azione costante, ad esempio noi abbiamo messo in campo per formarsi alla fine di ogni workshop e di ogni corso mettiamo in campo un percorso dei 21 giorni. Il percorso dei 21 giorni è un affiancamento costante per 21 giorni attraverso mail, attraverso gruppi di whatsapp, attraverso condivisione, nei gruppi di facebook che di volta in volta andiamo a creare. Perché 21 giorni? Magari avete sentito parlare molto del percorso dei 21 giorni, tanti parlano del percorso dei 21 giorni e alla fine non sappiamo perché viene fatto e quindi non vedendole, magari non vedendole l'utilità non lo mettiamo in pratica. 21 giorni perché? Perché il grande cambiamento avviene quando siamo, come dicevo prima, anche la nostra identità cambia, anche la nostra identità cellulare, quindi quando ogni nostra singola cellula ha assorbito il cambiamento e l'ha messo in pratica. Il nostro corpo è fatto di miliardi di cellule e le cellule si rigenerano e si rinnovano. Alcune cellule del nostro corpo ci mettono pochi giorni per rinnovarsi, altre cellule ci mettono mesi e anni, ma la maggior parte delle cellule ci mettono tra i 21 e i 28 giorni. Quindi se per 21 giorni o 28 giorni fai cose nuove, anche le tue cellule saranno nuove, saranno pronte con nuove informazioni da trasportare nella tua vita. Quindi in 21 giorni tu puoi creare nuovi atteggiamenti e nuove abitudini. Quindi attenzione che la ripetizione di azioni che poi diventano programmi mentali, quindi abitudini, valgono in tutti i sensi, valgono per le cose utili e per le cose non utili. Quindi quando tu ripeti un qualcosa in maniera costante poi diventano abitudini e questo andrà a influenzare e condizionare la qualità della tua vita. E l'ultimo ma non ultimo punto è l'impazienza. Sono persone che mettono in pratica, mettono in pratica per un po' e poi lasciano andare. La pazienza è uno strumento importantissimo che ti permette di veramente di realizzare quello che desideri. Ci sono dei cambiamenti che non avvengono nell'immediato, ci sono dei cambiamenti che magari avvengono all'interno ma prima che si manifestino all'esterno ci vuole del tempo. E quindi se non hai pazienza come l'agricoltore di prenderti cura del tuo campo, della tua semina, questo potrebbe o non portarti frutti o se sposti l'attenzione da ciò che hai seminato potresti non vedere il cambiamento e di conseguenza non ritenerlo interessante e utile per la tua vita. Spero di aver fatto un po' di chiarezza sui motivi per i quali non riusciamo a cambiare o facciamo fatica a migliorare la qualità della vita. Vi auguro una splendida giornata, ci vediamo alla prossima riflessione ad alta voce, un grande abbraccio e buon cambiamento a tutti, buon miglioramento della qualità della vita. Ciao e a prestissimo!